Parliamo ora di Super Deep, parliamo ora di Super Deep ragazzi, Super Deep è un film del 2020 Si chiama in realtà The Super Deep il titolo, no il titolo originale è Kolskaya Svergumbolokaya Voi direte ma che cazzo di titolo è? Ma vediamoci il trailer così capite E' un film russo ragazzi What happened? Where are the others? Everything is just like in a regular shaft But later on you'll see what we actually created here This form of love is unknown to science It's the end of the human race Pronti? Mi fa impressione anche ancora adesso nonostante abbia visto il film Allora è un film russo di Arseniy Suin Vabbè non l'avrò letto sicuramente nel modo giusto E lui è un regista russo insomma penso Che in realtà Ha fatto solo questo film Cioè questo è il suo primo film Prima di questo film ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortometraggi E poi basta Non ha una grandissima carriera Insomma è un esordiente Possiamo tranquillamente dire che è un esordiente Ed è l'82 quindi non è neanche più un pischello Il film è russo Allora è un film che è uscito con la Midnight Factory Con una bella copertina Una cover un po' diversa dal solito Fantascientifico come avete visto C'è questa dottoressa Esperta in pandemie Che viene chiamata per andare a investigare In una base militare sotterranea A 3.000 metri 13.000 chilometri Non so quanto ce l'ha scritto Una roba pazzesca È proprio Scusate Che c'è? Io sono Sky Scusatemi Arrivo Aspetta Sei capace di metterle? Non venire qua Perché no? Non riesco a vedere un tutto Non venire qua Non venire qua Salame Vattene 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 I bambini non possono stare No Vai Allora Chiudi la porta Salame Questo è il bello della diretta Questo è il bello della diretta Allora Perdonatemi Se sono scaricate le pile del pad Allora La dottoressa Finisce Insomma Indagare Su questo Su questo Incidente Che è capitato In questa base sotterranea Ci va Insieme ai soliti militari Il generale Il Come si chiama Altri dottori Scienziati di tutte le categorie Eccetera Spesso le persone Che mi seguono E che mi stimano Tra l'altro Così pare Così dicono Ma poi secondo me Non è proprio così Mi Pensano che io parli bene Di Mindeny Factory Perché così mi mandano i film Non è così E infatti Siamo di fronte a un film Che secondo me È uno dei peggiori Film Portati da Mindeny Factory Non perché sia totalmente un disastro Ma perché Non porta Non porta niente di interessante Ma veramente niente di interessante Perché Fondamentalmente Perché Ogni singolo elemento Della storia È preso Paro paro Da Altri film In modo Molto Molto Sento odore di deludendo Sì Ma proprio tanto Perché comunque è un film Che Ha una sua Solidità Ha una sua solidità Solidità nella struttura E quindi Funziona come tempi Funziona come Tutto è Cioè come sono impostate le scene La tempistica delle scene E tutto funziona Gli elementi Personali Ma è tutto Estremamente Troppo Copiato Senza Metterci il minimo Contributo Quindi noi abbiamo L'ennesimo Fantascientifico Con un mostro Che È un mostro Fatto di Non ve lo dico Perché se no ve lo spoilerò Però Sembra Sembra Un po' alien E un po' Altri film Magari ambientati Nelle profondità marine Abbiamo la La scienziata Che Praticamente È identica Ad altri Per esempio Sea Fever Che è sempre un film Della Midnight Che è un film Molto più interessante È identica Alla storia Di Sea Fever Cioè È la stessa Storia È identica Ma Sea Fever È molto più bello Sea Fever È molto più interessante Questa è Una Una Scopiazzata Dietro l'altra E I personaggi Oltre ad essere Vemente Molto stereotipati Hanno anche Dei problemi Per ciò Che riguarda La loro estetica Perché sono C'è C'è un medico Con i baffetti Finti Incollati Con lo scotch Che sembra Il video Dei Beastie Boys Quello dove Dove Ambientato Negli anni Settanta Sabotage Sembra C'è I soldati Che sembrano Usciti Dalla recita Di Natale Con le Con le divise Strafinte Non che Non siano Strafinti Anche quelli Che i soldati Russi Che ci sono In Stranger Things 3 Che sono Strafinti Pure loro Però ecco È tutto Veramente Molto Ingenuo Ecco Molto Ingenuo Cartonati Un po' Dappertutto Scenografie Di cartone Non è tutto Fatto male Ma Dà l'idea Di finto Dà proprio L'idea Di finto Non c'è Neanche Una buona Interpretazione È come se tutto fosse A un buon livello Ma non abbastanza Per essere credibile È anche abbastanza Sciocco Nelle cose Che Che propone È molto sciocco È molto sciocco Cioè Ingenuo Nel Non sciocco E brutto È ingenuo È ingenuo Proprio Propone delle cose Che sono piuttosto Scontate Anche gli effetti speciali Ti lasciano un po' così Perché Sì Molto 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 Bella La scena Della mano Della ragazza Che avete visto Nel trailer Che gli si spezzano le dita Ragazzi È bellissima Io non ho idea Di come l'abbiano fatta Probabilmente Con La CGI Cioè Magari Cancellando un dito E mettendogli L'altro storto In CGI O Non lo so Comunque Fatta molto bene Ci sono delle cose Fatte molto bene Però ci sono anche Delle creature Diciamo Non voglio Spoilerarvi che cosa Che sono di gomma Sono finte E secondo me Con un po' di Di luci Si poteva Nascondere un po' E appunto Alien insegna Perché il primo alien È un gioco di luci Cioè Il buio C'è E si usa Va usato Per Per lasciare anche All'immaginazione Il lavoro Più grosso No? Poi dopo Si vede anche Sono anche Fatti strabene Gli effetti di Alien Qua no Quindi secondo me Bisognava essere un po' Più Più Sgamati Detto ciò Il film non porta Assolutamente Niente Né dal punto di vista Del contenuto Cioè È il classico film Della scienziata Del Della minaccia Diciamo C'è una minaccia C'è una scienziata Ci sono i militari Scemi Ottusi Stupidi Spietati È tutto un cliché Continuo Ma Rispetto ad altri film Dove comunque I cliché ci sono Ma poi Per un motivo Per l'altro Riescono a farsi valere Qua Non c'è niente Di interessante Per me È un film Bypassabilissimo Cioè proprio Che si può evitare Come Proprio Senza Nessuna Preoccupazione Quindi Assolutamente È un no Per me Se ho un criterio Per cui I film Deludono Deludono Che poi appunto Dipende quali sono le aspettative Ma Se le aspettative Sono il divertimento Anche lì Siamo un po' scarsi Perché Non c'è niente Di estremamente Esaltante Ecco Forse questo è dovuto Anche al fatto Secondo me Che I personaggi Non sono caratterizzati Molto bene Per cui Per poterti emozionare Di fronte a delle scene Di coraggio Non di coraggio Di tradimento Non di tradimento Sacrificio Eccetera Se non c'è Se non c'è patos Se non c'è Quella connessione Con i personaggi Poi tutto risulta Abbastanza posticcio E inutile Quindi Manca proprio quello Ci sono film dove Tante cose Sono fatte male Ma la connessione Col personaggio C'è sin da subito Quindi Per me Assolutamente Un film Abbastanza Inutile Come contenuto Poi Detto ciò Il regista È Abbastanza bravo Cioè Non è che fa Degli errori Clamorosi Mi sembra Comunque Molto meglio Di tantissime altre cose Però Non basta Ecco Quello che Posso dire Però È che io Non sono contrario A un film come questo Perché questo film È un film Dove questo regista Intanto è esordiente Ok C'è chi esordisce Con capolavori C'è chi no Ma non vuol dire Che chi esordisce Con un film così Non possa La prossima volta Fare un film della madonna Finiamo con la parte Polemica Che Non voglio Risparmiarvi Che mi fa incazzare Ok Io non mi incazzo mai Perché i film Per me Hanno tutti Il diritto Di fare i film Come cazzo vogliono Ok Sapete che io sono democratico Sono il contrario Di tutti gli altri Però Questo è un film russo Fatto In Russia Con attori russi Scritto da russi Perché è scritto Da Sergei Da Victor Da Milena È interpretato Da Milena Da Sergei Un altro Sergei Da Nicolai È interpretato Cioè Ora State sentendo Che nomi Allora non esiste Che è ambientato In Russia Nella Russia Negli anni Ottanta Ambientato Con il governo Gorbachev Non esiste Che io prendo Il lettore E imposto La lingua originale Con i sottotitoli In italiano E i russi Parlano in inglese Perché tu Hai deciso Di far recitare I tuoi attori In inglese Per rendere più internazionale Il tuo film Scusami Caro Arseni Ma Mi stai sul cazzo Pesantemente Per sta cosa Cioè proprio Ma te lo dico Con simpatia Cioè Perché veramente Cioè Mi fa Vomitare È una scelta È una scelta Legittima Che puoi fare Che decidi di fare Perché Però Farà Abrividire Farà Abrividire Mettere La lingua originale Con i sottotitoli In italiano E sentire Questi che parlano In inglese I russi Negli anni Ottanta I soldati Russi Posso capire La scienziata Che ha a che fare Con altri scienziati Di altri paesi E vabbè Parla in inglese Magari con un po' D'accento Mettiamo Cioè No Questi parlano In inglese Non dico perfetto Però Cioè Ma poi Perché cazzo Devono parlare In inglese Tra di loro Ma di che cazzo Stiamo parlando Dai Cioè Allora L'ambienti Da un'altra parte Sono Sono veramente Poche Poche volte Sono Così Intransigente Sul cinema Perché io penso Che Le persone Hanno diritto Di fare il cazzo Che voglio Però Stavolta Mi metto di traverso Ragazzi Non esiste Cioè Io volevo sentirlo In rosso Io volevo sentire Sti cazzo Di russi Che fa Cioè Volevo sentirli Con le loro Cazzo Di lingua Eh Che cazzo Prego Prego Tom Ti ringrazio Questo è L'ultimo punto Spiacevole Poi ecco Se vogliamo Spezzare una lancia A favore La spezzo Per Milena Radulovic L'attrice protagonista Che è veramente Bona Detto ciò Dico solo questo Bona No è anche brava Ma Non è un film Che la Buona serata Tom Grazie per essere Stato qua con me Tom è il mio Moderatore Ora mi lascia Quindi rimango Senza moderatore Vediamo Sì Ce n'è un altro Ma oggi non c'è E quindi insomma È un peccato Non so Ditemi anche voi In chat Cosa ne pensate Io amo Guardare i film In lingua originale Se vedo un film Spagnolo Spagnolo Mi piace sentire Lo spagnolo E E leggere i sottotitoli Se lo vedo In inglese Idem Se lo vedo In un inglese Inglese Un inglese Americano Mi piace sentire L'accento americano E l'accento inglese Mi piace sentire La lingua francese Mi piace sentire La lingua araba Mi piace sentire Tutto E Non mi piace sentire I russi Degli anni 80 Che parlano In inglese Mi sembra Una cosa Assurda Assurda Pazzesca Veramente Una scelta Scellerata Scellerata Secondo me Spezza un'arancia O un dito Spezziamo un dito Giusto per rimanere In tema Tra l'altro La scena del dito Che voi Vedete Nella trailer Ed è molto Efficace Nel trailer In realtà Nel film È molto meno efficace Montata male Perché I tempi Sono strani Lei reagisce In modo strano A questa cosa Che gli capita Reagisce in modo strano Non si capisce Dovrebbe essere Spaventata Ma lì non si capisce E poi in realtà Dura pochissimo Ed è solo un pezzettino È una roba Proprio Estemporanea Del film Che non vuol dire Nulla Mentre invece Nel trailer Ha un grande effetto Un grande impatto È fatta anche Molto bene Con la scena Nel caso Qualcuno veda Questa recensione Su youtube Lasciate un like Se vi è piaciuta E lasciatemi un commento Per quanto riguarda Super Deep Uscito con la Midnight Factory E iscrivetevi al canale E seguitevi su Twitch E iscrivetevi al canale